Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, io sono Angelo dei 4 Joypad e oggi ci ritroviamo, come vedete, di nuovo su Black Ops 3 Questa volta io, insieme a Battery, andremo a fare un'altra partita, questa volta su Gioco delle Armi Benissimo ragazzi, ci troviamo su Gioco delle Armi Questa volta con Battery non andrò ad utilizzare la solita macchina da guerra ma utilizzerò con razze cinetiche Sperando che tutti non avranno quella gran botta di culo nel spararmi nel cervello e... ok, abbiamo fatto la prima volta Sperando che tutti non avranno quella botta di culo nel mirarmi nel cervello e farmi fuori Quindi, saliamo qua, qualcuno è qua sopra... no, sì, 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 ok, perfetto, morto Oh mio Dio, no, 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 non va, non va, non va, questa cosa proprio non va, è inaccettabile, ok, perfetto Questo qua è morto, questo qua pure via, Argus, con l'Argus io divento scemo Minchia, questa volta invece sono andato abbastanza bene Allora, di qua andiamo, vediamo se troviamo qualcun altro da fargli sfragassare le cervelle Tutte cose proprio a farlo fuori in una maniera... no, però siamo arrivati alla VMP Quindi questa volta ci andrà meglio rispetto ai fucile a pompa che io sono negato Qua nel frattempo qualcuno stava campionando, non si sa che fine è fatto Ah, sta facendo il giro, ok, stronzo, ecco di là, con il KRM Qua ce n'è qualcuno, sì, perfetto, ti ho visto, ti ho visto, ti ho notato e ti ho fatto fuori Di qua, di qua è sempre piena la zona Uno stava salendo da questo lato e mi ha fatto fuori, infatti Allora, andiamo di nuovo alla ricerca dei nemici Quest'arma spara non a raffica ma con una piccola serie Nel frattempo qua mi fanno il culo, porca buttana Ecco qua, arriva qualcuno HVK30, questa qua è un'arma che onestamente mi piace moltissimo Questo qua è il KN44, un'arma che preferisco soprattutto come fucili d'assalto Nel frattempo questo qua mi fa il culo perché camminava sul muretto e rompe le palle Poi dico io su combine camminare sul muretto Una mappa di due metri quadrati e mi cammini sul muretto Eh, Cristo santo Nooo, lo sceiva Sceiva che molti dicono che è l'arma più forte del gioco Io onestamente non mi ci trovo Con le armi che fanno una serie di colpi Io preferisco armi tutte automatiche Che sparano 30 colpi in una volta e se le macinano Tipo io col Vesper vado una meraviglia Però questa qua mi ha rotto i coglioni E siamo sempre 120 120, non va, non va, non va Qua mi stanno facendo il culo Non riesco più a riprendermi la partita Non so perché Dai Ma sto cazzo di sceiva Cioè mi sto bloccando con questa Non mi sono bloccato con i fucili a pompa E mi blocco con lo sceiva Ma vado, guardali questo stronzo qua di merda Mi viene a rompere le palle Dai Dai sceiva Oh madonna Oh, alleluia Ci siamo levati questo schifo Andiamo con Tipo Non lo so Pepeggio di un bazooka è quest'arma Però Fa danni quanto una pistola Il dingo Dingondango Qua c'era una persona prima Ed è scomparso Perfetto E ora io non so dove cazzo andare Dai No, no, no Cavolo Quella la si sta avvicinando alla fine No, questa cosa non è affatto giusta Non è affatto giusta È totalmente ingiusto Che quella la stia già per finire E io ancora Mi ritrovo qua Con il dingo del cazzo E ancora mi devo fare Ok Locus si più ballistica Camperiamo un pochettino 10 secondi Giusto è tempo per fare Niente Quella la è riuscita ad uccidere con i pugni E siamo arrivati terzi Uno ci ha battuto solo per due armi in più E quella la vabbè Quella ha fatto i culi 15 uccisioni e 15 morte Un rapporto di uno Una bella merda Diciamo Potevamo fare di meglio Ma onestamente è andata abbastanza uno schifo Quindi ne rifaremo un'altra Rieccoci su un altro gioco delle armi Di nuovo la mappa combine Io avevo votato fringe Ma Niente Le altre mappe gli fanno schifo alle persone Tutti preferiscono Questa mappa Infatti le votazioni salgono all'estello Ogni volta Io ora questa volta sono diventato più scemo di prima Non sono riuscito manco a fare la prima kill Questo qua sta dentro Ed è uscito Ma dai cavolo State fermo 10 secondi Vieni qua No Cavolo Già sono arrivati alla terza arma addirittura Non si fanno Ehi 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 Fermo Va bene va Tre morti di seguito Andiamo male Andiamo veramente male Andiamo malissimo Per ora ci stiamo riprendendo Col cazzo invece che ci stiamo riprendendo Qua c'era uno Si è piazzato là sotto E ora rompe i gabbasisi Dai Ma come cavolo ha fatto Con un fucile a pompa Quella distanza impossibile Che uccide una persona Ehi Anormale Io col KRM Ora divento scemo Perché non Sono proprio negato Con i fucile a pompa Speriamo che qualcuno Riesca pure a prenderlo Così a culo Come ho fatto prima Invece no Perché ora La sfiga si ritorce contro di me E non mi vuole far andare avanti Perché è stronzo Ecco di qua Ti ho visto Perfetto Fuori Fuori pure quest'altro Che culo Uno dietro l'altro E questo qua invece no Perché non mi piaceva Ucciderne più di uno Anzi che non ci si due E ho fatto tanto Questo nel frattempo È fermo No Sta girando È dietro È là sotto Cazzo Lui ha un'arma che può colpire Alla distanza Io ho sempre invece Un fucile a pompa Di qua Vediamo se riesco a beccarne Qualcun altro Uno qua dentro Sta camperando No Sta facendo un giro Semplicemente un giro Ok perfetto Ucciso Perfetto Perfetto Vai WMP Che mi hai salvato il culo Ora in una maniera Strevidosa Nel frattempo Qua non c'è nessuno La Nessuno Qua non compare Nessuno Cazzo Ma Ok No Non ti intrippare con lo spicolo Della porta Dai Dov'è Mi indica che è dentro Però non è dentro Che cazzo Di stregonerie È me questo Ah ok Sta facendo il giro Come ho fatto io Perfetto Ok Tu ci Minza Già 140 Porca buttana Ma chi è Sempre quella là di prima No Manco mi ricordo Chi era quella là di prima Nella partita precedente Precedente Non so più parlare Dai No però Ma da dove cavolo è arrivato Questo Ah ok Volando È tipo Superman Dove sei Muori Perfetto 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 No Buonissimo Così Allora Qua dove cavolo ti trovi Tu Ti ho visto No Cazzo Non mi piace Non mi piace Dov'è Non mi piace Non mi piace Proprio Ecco infatti Io con lo sceiva Rimango bloccato Divento un celebro leso E non riesco ad uccidere Nessuno Perché questa cosa Perché ce l'ha con me lo sceiva Perché ti arrampichi sui muri Non sei Prince of Persia Eh ok Perfetto Mi è andato a culo Proprio ragazzi Non so manco io Come ho fatto ad ucciderlo Col Gordon Speriamo di levarcelo subito Questo bazooka Perché in effetti È tipo un bazooka È inutile dirlo Ma Lo è Va bene Ma Non c'è più nessuno Non Si sono seccati a giocare Ok Perfetto Quest'altro è arrivato Qua Ce n'era uno Che fine ha fatto Se n'è andato Perfetto Di qua No Cazzo No L'ultimo a morire Tramite i pugni di questa rincoglionita Questa volta manco terzi Siamo arrivati i terzi ultimi 14-16 Oh mio dio Una media di merda Bene ragazzi Il video termina qui Purtroppo In queste due partite Di gioco delle armi La prima Bene Siamo arrivati i terzi Quindi tanto quanto Però una media Che è abbastanza ridicola 15-15 Nella seconda partita Abbiamo fatto più schifo Che bene Proprio nella prima Anzi Siamo stati oro in confronto Comunque Vi ricordo di lasciare un like E di iscrivervi al canale Tutti gli altri canali social Li troverete in descrizione Un saluto da Angelo E al prossimo video E al prossimo video E al prossimo video